se ti capita di lamentarti perché non sta funzionando bene la tua vita porta la tua attenzione su ciò che funziona perché comunque qualcosa funziona se ti stai lamentando beh puoi ragionare puoi parlare ma anziché usare la tua mente le tue corte vocali per raccontare qualcosa di negativo sposta l'attenzione su ciò che funziona d'accordo ci sono delle situazioni che non sono esattamente come speravi porta la tua attenzione su situazioni che favoriscono il tuo benessere che ti permettono di esprimerti al meglio di te c'è sempre qualcosa di buono nel momento in cui stai vivendo e se proprio tutto va male hai la conferma definitiva che tutto quell'ambiente va male deve cambiare se sei in un paese dove tutto va male cambia paese se te lo dicono tutti i giorni hai la conferma definitiva c'è sempre qualcosa di buono scopri qual è l'aspetto vitale in ogni situazione scopri come quell'aspetto vitale si accorda con gli aspetti vitali della tua essenza tu vuoi stare bene vogliamo tutti stare bene ognuno di noi ha qualche cosa di buono di costruttivo di solare scova nelle persone e nelle situazioni dove sta il lato solare e assecondalo e se in un certo momento nelle persone nelle situazioni che frequenti non c'è il lato solare hai la conferma che devi cambiare luogo quindi abbi sempre bene evidente la necessità di procedere verso amore verità e bellezza e abbi sempre evidente la certezza che in qualsiasi situazione ci sono delle occasioni degli spunti degli stimoli che ti ricordano di vivere bene in modo solare leale altruista grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti